Si torna a vaccinare il personale scolastico dopo lo stop ad AstraZeneca degli scorsi giorni, fermo poi non confermato e ritirato. Le persone si sono recate qui alla scuola Giovanni Paolo II per effettuare il vaccino senza non pochi problemi. Infatti non sono poche le persone che stamane non hanno potuto ricevere il vaccino a causa della propria cartella clinica. Saranno ricontattate poi nei prossimi giorni dall'Asla territoriale per ulteriori informazioni. Riprende la campagna vaccinale anche per il personale scolastico. Dopo le criticità degli scorsi giorni legate allo stop dei vaccini della casa farmaceutica AstraZeneca, ritornano a vaccinarsi docenti e personale scolastico. A Torre del Greco, presso l'Istituto Giovanni Paolo II, si procede alle vaccinazioni con non poche difficoltà. Sono numerosi gli aventi diritto al vaccino che si sono visti negata alla possibilità all'inoculazione della dose a causa di problematiche quali allergie o intolleranze. Maggior attenzione e precauzione quindi per coloro che sono destinati al vaccino della casa anglo-svedese. Con il personale scolastico che, nonostante il via libera ai vaccini targati AstraZeneca, manifesta non pochi dubbi, perplessità e paure.